Io ho indossato la pizzo nero e sapete che io e il nero andiamo molto molto d'accordo. Poi però molto bello secondo me dove si vede molto bene anche il pizzo è questo colore. La camicia qui è stata abbottonata in questo modo particolare vedete che crea questo motivo sul davanti ma è sempre la stessa identica camicia. E' bella anche questa colorazione se volete andare su una colorazione ed è tipo un rosa pesca su una colorazione estiva una colorazione che comunque anche una sera d'estate ve la mettete è splendida. No sei venuta prima che vi ho lasciato un po' in me. Ah sì dai dai. Miguel. Miguel buongiorno benvenuto. Poi Alessandro D'Amerzo. Alessandro D'Amerzo buongiorno. E' lui è lui che ci spia. Annalisa benvenuta. Marco. Marco buongiorno. Grazie. A seconda delle vostre altezze vi rimangono ecco vedete a me. Sono un po' cortini ma sono belli anche così. Non c'è questa grande differenza. Ok. Mi rimane bello aderente. E' leggermente stretch. Quindi è fighissimo. Super asciutto. Pascia perfettamente il fisico. Se volete eventualmente si... Il pantalone. Guardate com'è carino. Quindi anche se è un panta. Ok. Ha comunque qui fatto come se ci fosse un pantalone. Cioè ha questa cucitura che sembra che ci sia una zippo e in realtà non c'è. Vedi? C'è una finta cosa. Vedi? Che fa un po' insomma sembrare il pantalone. Perché questo è carino come usano anche adesso magari eventualmente. Metterlo anche così. Quindi rimane un pochino più pantalone. T'alta. La taschina c'è. Che vi dirò che è anche meglio forse la 2 anche per me. Perché se poi con le tasche meglio avere una taglia così un pochino più... Leggermente più morbida. Perché la 40 secondo me... A parte che qua non ce l'ho. Non l'ho neanche fatta la 40. Però penso che non ci sia problemi magari ad averla. Ma poi vi si aprono le tasche. Il pantalone mi aiutate con i prezzi? Quello sì. Io aspetto eh. Eh? Il pantalone ve lo faccio vedere. Eccolo qua. No, è proprio una questione di... Scusatemi. Questione di finitura. Questa è rosa dentro. Comodo. È bellissimo. Fatto così vedete con la parte finale. Vedete così a staffa. Io continuo ad avere questo tacco sempre qui. Così. È ipercomodo. Anche questo si può acquistare amiche separatamente. E il pantamiche è comodo. È bello amiche a vita alta. È fatto da Dio. Confortevole al massimo. Non vi si tira su perché avete comunque questa parte qua. Che è carina. È astichino morbido. Ok. Grazie.